A tutta velocità, a bordo della sua macchina si è lanciata in acqua mettendo fine alla sua esistenza. Lei è una donna gelese di 33 anni, Sara, è deceduta per annegamento. L'episodio si è verificato questa mattina intorno alle 8.30 al porto rifugio. È stato un testimone oculare a chiamare i soccorsi. Ha riferito che la 33enne ha prima rallentato con la sua vettura, una Opel Corsa, e poi è ripartita senza fermarsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia e gli uomini della guardia costiera. Gli agenti della squadra nautica del locale commissariato hanno immediatamente chiamato in ausilio il personale del 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Seppur nell'evidenza del decesso sono state eseguite le manovre di rianimazione, sperando in un miracolo, ma così non è stato. La vittima accusava problemi psichici ed anche di natura sentimentale. Era seguita dagli assistenti sociali del comune. Lascia tre figli, due giovani ed un ragazzo, due dei quali avuti con il precedente marito ed uno con l'attuale compagno. La salma della donna è stata recuperata dai pompieri. I vigili del fuoco hanno recuperato anche la vettura in fondo al mare. Sullo suo profilo Facebook, la vittima, nelle ultime ore, aveva postato numerosi video di cantanti neomelodici ed anche delle foto. In una di queste, come in un presagio, c'è scritto Biglietto di sola andata, lontano da tutto e da tutti.